Estate con noi di Villa Bonelli è un laboratorio multidisciplinare che valorizza l'ingegno, la creatività e la sportività di bambini e ragazzi, dando loro la possibilità di creare nuove amicizie. I centri estivi di Villa Bonelli da oltre 20 anni sono un punto di riferimento per bambini, ragazzi e per intere famiglie e hanno la capacità di unire laboratori creativi, attività sportive, ambiente sano ed educativo e un giusto rapporto con la natura circostante. L'elemento principe dei centri estivi di Villa Bonelli è l'acqua, infatti i ragazzi hanno la possibilità di effettuare corsi di nuoto tutti i giorni, unendo un momento di attività sportiva a un momento di relax e di divertimento. Strutture a disposizione di Villa Bonelli sono la piscina, le aule per i laboratori, i campi da beach volley, green volley e calcetto, la zona relax e il parco giochi. Particolare attenzione verrà prestata all'alimentazione, infatti il pranzo si potrà scegliere su tre menù giornalieri, tutti certificati da esperti nell'alimentazione. Da quest'anno Villa Bonelli distingue due formule, la formula Baby Club per bambini dai 3 ai 5 anni e la formula Junior Club per bambini da 6 a 14 anni. I centri estivi di Villa Bonelli sono dal 9 giugno al 12 settembre e allora vivi l'estate e state con noi!